Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di PES21 dove continua il campionato con la Salinitana se vi siete persi il primo episodio andate a regolare, vi lascio il link in alto a destra e oggi affronteremo il Pisa in Coppa Italia purtroppo in realtà la Coppa Italia è a turno unico ma qui su PES l'hanno messo andata in ritorno quindi devo fare per forza due partite quindi andiamo subito a farci la partita di andata schia di gioco, controlliamo chi sta bene Casasola, Casasola sta al massimo dobbiamo trovare un sostituto per Tutino che non sta in forma facciamoci un gioco di Antonucci Antonucci, Antonucci, Antonucci facciamo un gioco di Antonucci, Bogdan lo portiamo al posto di Giannetti e io direi che va bene così andiamo al calcio d'inizio calcio d'inizio vediamo come andrà a finire andiamo subito al calcio d'inizio e inizia la partita Marine, Carracciolo Deseli, recupera subito Giumber Giumber per Lovets Lovets non fa uscire Lovets torna indietro Giumber Veseli Casasola, Veseli Veseli, Veseli Casasola, Veseli G-check Giumber Di Tacchio si fa recuperare palla Vito Vito ancora Vito circa subito Zammarini ma Giumber recupera ande recupero di Giumber circa Duric che non riesce a prendere il pallone Giumber torna indietro che questo ci segna ande Giumber Anderson Anderson di Tacchio Duric Provaci Antenu Antenu Provaci Perci il pallone Pisa recupera in qualche modo Vito Vito per Siega Siega avanza torna indietro per Mazzitelli Mazzitelli per Zammarini Siega Mazzitelli attacca Siega centrocampo il Pisa tiene possesso centrocampo Mazzitelli prova l'annuncio lungo per Vito che non ci riesce ad agganciare recupera la salientale Lombardi C-check Di Tacchio rispetto al compagno che sta Lopez Di Tacchio Di Tacchio Di Tacchio prova tieni palla Di Tacchio verde palla Veseli recupera ande Veseli Anderson per Di Tacchio Di Tacchio Di Tacchio Di Tacchio Di Tacchio passa sta dai Di Tacchio sta perdendo un casino di palloni Lopez Lopez è tuo Lopez Chiomere Veseli Casasola avanza Casasola Casasola vai avanza 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 Lombardi vai Lombardi Tonucci non riesco a trovare spazio se recupera il Pisa Perelli per Irvi come si chiama Casasola recupera Anderson dai Anderson che palla ha perso il centrocampo Casasola Siega Zamarini lancio lungo per Vito ma Casasola anticipa C-check Anderson Antonucci Antonucci Di Tacchio Di Tacchio ottimo Lopez Lopez sulla fascia avanza cerca di Uric che si fa recuperare Birindelli lancio lungo per Vito che sta ovunque oh dai ma dai Lopez sbaglia tutto ma dai Lopez caracciolo per Vito Veseli recupera Beleg Casasola prova da lanciare in Casasola cerca Anderson Anderson cerca Juric ma sbaglia tutto recupero del Pisa Siega Vito 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 tiene palla Anderson non riesce a curarla la passa Zammarini 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 Di Tacchio in qualche modo forse lo mette fallo Zammarini sulla fascia Zammarini Zammarini ancora Zammarini Di Tacchio Vini Zammarini 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 sbaglio ultimo passaggio questa è la serenità Veseli Zammarini 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 Oh via Palo allo scadere del primo tempo Djuric Zicek Günberg Di Tacchio Lovets Di Tacchio Anderson lombardi casasola casasola dai lombardi ma perchè si ferma? l'ho buttata io fuori Vito Veseli prova a regolare non ci riesce lancio lungo per Masucci anticipo Lopez, C-Check Anderson ottimo per lombardi che andrà subito ad Antonucci lombardi cerca Antonucci Antonucci prova ad andarsene sulla fascia ma circondato da avversari casasola Anderson e dai andai di tacchio però si fa il passaggio di tacchio è un ottimo recupera palloni ma non sa smirare amistare almeno nel gioco Danobardi 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 Antonucci cerca Diuric Diuric è buono è buono ci prova Diuric porca trota che ha parato dai dai c'è Diuric C-Check 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 la tocca ma la palla arriva comunque a Vito Siega Marine aiuto Vito Vito si mette davanti Ghiomber di tacchio di tacchio di tacchio c-C-C-C-C si fa vedere da come Lombardi non riesce Lombardi non riesce c-C-C-E-B-Q e dai ah i C-Check Tornato indietro, Guido, questo è gol, inizio, quanti pericoli, calcio d'angolo, calcio d'angolo, batte Mazzitelli, prendiamo gol di Dacchio, orca trota, non vuole, l'ha buttata fuori. Balec, butta avanti, vedi, Dio Ricci, Dio Ricci, Lombardi, Partici, Cacchi, Dio Ricci, Dio Ricci, quanto non c'è in questa palla, Veseli, quanto è forte Veseli, Dio Ricci, Lombardi, Antonucci, Dio Ricci per Lombardi, Antonucci è buona, è buona, è buona, Antonucci, 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 Antonucci in sacca, 1-0, Antonucci, la Serenitana è in vantaggio, in trasferta, 1-0, Antonucci. Uff, fatica, devo fare un altro gol, così a partire di ritorno farci riposare qualcuno, perché se no quasi stancano. Ghiomberg, c'è un po' meno offensivi. Ti ho visto, Lombardi, 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 per Antonucci, che prova, no, Antonucci! Feseli, per Antonucci, Antonucci, ancora lui, Antonucci, Antonucci, ma chi cacchiava? Ma dai, doveva darla a Dio Ricci, questo era un altro gol. Mannaggia, Antonucci, mannaggia. P billing. Musica, haally, mi ciao, Mattucci. Coopi, buona, Ariata. Buona, Antonucci. Dio Ricci. G laggi. Dio Ricci, Ariata. Dio Ricci, Ariata, questo è una falla. Brilli. Caracciolo. Belli e brutti Vai Chiambervi Non di Chiamber Kovic Ottimo Capizzi Attento no? Bravo Dürich Dai Dürich Bravo Vai schiavone Vai schiavone Dai schiavone Mamma mia Chiambervi Non ci arriva Tanto no? Non prendiamo gol Adesso Vai Cicciac E tu Non ci arriva Sodimo Marin Mazzitelli Ci provano Chiamber Porca trota Cicciac No 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 Anderportiere Schiavone Per Cicciac Mede Dürich Kovic Antonucci Non ci arriva Non l'ho capito Che ha fatto Va bene Chiambervi Lo fanno girare Ottimamente Buttano davanti Casasola Finisce 1-0 In trasferta Ottimo risultato Ora facciamo il ritorno E andiamo subito avanti E devo Mi sa che devo Fare riposa A qualcuno Allora Tutino gioca Sicuramente Belek Facciamo giocare Mikai Che è un ottimo Portiere Facciamo giocare Mantovani Al posto di Di Meseli Posto di Lopez No Mettiamo Montavano A sinistra Mettiamo Montavano A sinistra E Aya Centrale Poi Centrocampo Centrocampo Pum 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 Ah Di Tacchio Di Tacchio Fai di Mediano Come gioca Calciamo Cicciac Ci mettiamo Ci mettiamo Capezzi Copiz Copiz Trequartista Dioric Posso di Gondor Giannetti Facciamo giocare Giannetti Dai Bogdan Lo portiamo Al posto di Lopez Schiavone Ah no Questi sono tutti i portieri Va bene Elec Adomins Va bene Andiamo così Carcio Di inizio Ritorno Di Coppitalia Sto in Montaggio 1-0 Sì E non Devo Subbire Col Chiombeo Montuvani Montuvani Chiombeo Di Tacchio Aia Aia Casasola Casasola Avanza Casasola Avanza ancora Casasola Avanza ancora Casasola Prova a mettere in mezzo Non ci riesce Calcio d'angolo Calcio d'angolo Calcio d'angolo Tutino Tutino La mette in mezzo Per Lombardi Che non ci arriva Casasola Forse la recupera Dai Casasola Sottimo Sottimo Recupera Ancora Sottimo Per Mazzitelli Per Neroni Neroni Per Varnier Cerca Marconi In avanti Ma ci arriva Montovani Recupera Non so chi A centrocampo Mikai Lombardi Torna indietro A Mikai Perché Mikai Non lo potevi passare Aia Aia Gionber Di Tachio Dai Di Tachio Annecci a te Aia Casasola Lombardi Per Tutino Che non ci arriva Tutino Grande Casasola Grande Casasola Casasola Per Lombardi Ottimo Tutino Grande Lombardi Lombardi Cerca Tutino Prova a girarsi Vede Giannetti 1-2 Pega Nanderson Porca Trota Casasola Lombardi Perde palla Di Tachio Di Tachio Casasola Casasola Lombardi Tutino Anderson Cerca l'assist Per Giannetti Che non riesce Recupera Recupero Il Pisa Masucci Masucci Ma subito Aia Incredibile Casasola Di Tachio Anderson Kupitz Fanno girare la palla Kupitz Mantovani Per Giannetti Kupitz Di Tachio Non ci arriva Mayday 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 Se lo male Kupitz Vai Kupitz Kupitz Bara e palla Di Vitis La butta avanti Per Marconi Che ci arriva Per Soddimo Che prova il tiro Ma Innamorato Lombardi 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 Anderson Dai Che fanno Sti errori Chiudi Di Tachio Di Tachio Pisano Pisano Sulla fascia Torna indietro Pisano Perde palla Perde palla Pisano Kupitz Tutino Cercano Kupitz Ma non riesce Palla del portiere Meroni Avanti per Marconi Recupera Tutino Lombardi Kupitz Devo giocare Più aggresso Che se no Questi non vengono Mantovani Kjomber Kupitz Non era Per Anderson Ma è buono Lo stesso Tutino Anderson Tutino 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 Mantovani 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 E dai Mantovani Era quasi Mezzo fallo Mantovani Cerca Kupitz Ma la butta fuori Meroni Il Pisa Riparte Da dietro Per Belli Che lancia Avanti Per Marconi Ma recupera La Serenitana Finisce Il primo tempo 0-0 La Serenitana E' ancora In vantaggio Non cercare Di chiudere Assolutamente Questa partita Perché se no Trovo questi Mi segno E già so Già so Già so Meroni Butta avanti Per Marconi Come al solito Oddio Questo è buono Shakura Esce il portiere Come un folle In qualche modo Salva la partita Belli 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 e brutti Lombardi E dai Lombardi Fate questi passaggi Sottimo Sottimo Per Belli Casasola Non riesce a recuperare Belli Prova Ad accentrarsi Ancora Belli Non recupera Lombardi Per Giannetti Giannetti Madò Giannetti Non c'è Giannetti Sottimo Sottimo Recuperano Palla In qualche modo Quelli da Serenitano Ma è a sedia del Pisa È a sedia del Pisa Sottimo Ci prova Mancoraro Al Pisa De Vitis Mazzitelli Mazzitelli Cuaini Belli Belli Casasola Commette fallo Per prima fallo Che faccio Non ho un paio Maroni Sottimo Sottimo Sulla palla Casasola Va al centro Per dare una mano Mette in mezzo Di tacchio Spazzate Purtì qualcuno Dai Non so cosa è successo Però va bene lo stesso Basta che la palla Non è entrata Aia Per Mantovani Kupic Per Giannetti Ottimo Ottimo per Anderson Ottimo per Anderson Che si accentra Dai Anderson Che palla Di dato Recupera il Pisa Warnier La butta davanti Sempre per Marconi Recupera la Serenitana Kupic Di tacchio Giannetti E dai Giannetti Tieni sta palla Tieni sta palla Guardi Anderson Lo sapevo che mi segnavano Segna il Pisa Al 64esimo Con Marconi E adesso Ed è 1-1 La situazione Si mette male 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 Entra Vito Al posto di Masucci Porca polpietta Dai di tacchio Il Pisa gioca aggressivo Oddio Tutino Ma dai Ma è possibile Che la toccano Ogni Ogni palla Il Pisa gioca Tutto Aggressivo Salgono tutti Dai di tacchio Oh Ma state scherzando Perché Aiuto Mazzitelli Aia 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 Iomber In qualche modo Per Giannetti Che si gira Si gira Giannetti Eh dai Tutino Una palla Ma sbaglia tutto Non era meglio Che ti facevi Dare il fallo Gionber Ancora a terra Quello Dai di tacchio Hai recuperato Hai recuperato Di tacchio Hai recuperata Hai recuperata Hai recuperata Daia Perkovic Dai Mamma mia Come sono pesanti Sbaglio il portiere Mayday 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 Aia Eh dai Hanno fatto Tutto quello uguale Dai Non ci credo Questa non la recupero più Non ci credo Vito Vito Non ci credo Non ci credo Non ci credo No No Si chiuderanno In difesa Già so No 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 Vai Anders Giannetti Dai Tutino 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 2-1 Non so se cambia qualcosa Perché non so se vale Si guardano i gol in trasferta Però molto probabilmente Sì perché Dove prendere subito il pallone Quindi dovrei fare Un altro gol Per passare Tutino la riapre Immediatamente Vai Tutino Vai Tutino Vai Aia Aia Dai che il tempo c'è Dai che il tempo c'è Dai che il tempo c'è Porca trota Come fanno Vai quanto va Ottimo quanto va Di tacchio Anderson Aia Aia non la perdere Aiu E Fall Provo direttamente Alla punizione Vicino E lontano E vicino Di tacchio C'è proprio di tacchio Però Dai Tutino Tutto la dentro Tutino 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 Vito di stava Cicerelli Non c'è nessuno E' Duniston Che si fa vedere sulla fascia Ghiomber Mantovani Che Com' Bona Mantovani Vito Ghiomber 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 Cicerelli Cicerelli Per Aia Cicerelli Dai No non ci credi Ma che passaggio fa Stiamo a 6 Stiamo attacando Cupis Per Aia Quanto non ci prova Aia ci prova Goal Aia 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 Proprio lui Proprio lui Aia 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 Tira da fuori in sacca Al novantunesimo Aia 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 Proprio lui Proprio lui Grande Aia Grande Aia Mamma mia Non ci credevo più Sinceramente Che partita Ci prova da fuori aria La tocca il difensore E la palla va in porta 3-2 Tutti dietro Tutti dietro Tutti dietro Tutti dietro Ghiomber Non fate sciagure Oh Non ci credo Aia Ancora lui Ancora lui Ancora Aia Per Lombardi Finisce la partita 2-2 Ma con la vittoria dell'andata Andiamo avanti noi Mamma che fatica Che fatica Pensavo sarebbe stata più facile il ritorno Sinceramente Due tiri in porta Due gol Il migliore in campo Doveva essere Aia Comunque Ho preso 7 Ho messo Marcone Va bene lo stesso Pisa Serenitana 2-3 E siamo andati avanti La prossima è contro la Juventus Mamma mia Mentre in campionato La prossima sarà contro il Monza Quindi se volete Non mancate Se vi siete persi gli altri episodi Mi raccomando Andate a recuperare E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima